Continuiamo a parlare di trasporti ma privati, oggi in studio con noi il general manager di Uber Italia, Carlo Tursi, per la prima volta in un'intervista televisiva. Buongiorno, grazie di essere con noi. Dunque avete appena lanciato una nuova iniziativa, appuntamenti di lavoro a bordo di un'auto, come fosse un ufficio su quattro ruote per far incontrare giovani start-upper e professionisti. Dunque vediamo insieme questo servizio e poi torniamo in studio. Giulia è una delle sei giovani milanesi che oggi hanno proposto il proprio modello di business come start-up a dei professionisti. Il colloquio è avvenuto su un'auto, una specie di ufficio mobile organizzato dall'applicazione Uber che ha permesso il contatto tra lei e un investitore. La mia proposta è quella di far sì che gli utenti che lasciano il parcheggiano possano accordarsi con chi invece lo sta cercando, in modo da facilitare l'accesso appunto. Giulia e gli altri si erano candidati nei giorni scorsi attraverso un forum online. Uber ha selezionato le richieste e inviato un codice che ha poi permesso di prenotare l'incontro. Veronica invece è stata raggiunta in piazza Cadorna. Stessa scena, dieci minuti per esporre le proprie idee. Il progetto si chiama Via Mondo e ha come scopo di sostituire la domanda che tutti poniamo ai nostri amici e che tutti i nostri amici ci pongono. Hai dei consigli su una specifica città, dei posti da visitare, dei posti dove mangiare. L'iniziativa tra le 10 e le 13 in contemporanea con 37 città di 21 paesi in tutta Europa. Allora Tursi, abbiamo appena visto questa iniziativa. Che succede ora? Che sbocco avranno questi incontri? Ma come ha visto Uber Pitch è un'iniziativa rivolta a imprenditori che hanno delle idee di business per migliorare la vita nelle città. L'abbiamo lanciata in contemporanea in 37 città in 21 paesi del mondo. In Italia l'abbiamo fatta oggi a Milano, lo ripetiamo, mercoledì a Roma. Innanzitutto abbiamo voluto offrire a questi giovani imprenditori l'opportunità di incontrare degli esperti del settore, di raccontare la propria idea dei professionisti del settore e ricevere del feedback importante per portare avanti la propria idea. In più, chi ha partecipato oggi avrà anche la possibilità, chi verrà selezionato tra i partecipanti di oggi, di andare a Berlino l'8 giugno a raccontare la propria idea direttamente a Travis Kalanick, l'amministratore delegato di Uber Mondo. Questa è la vostra ultima iniziativa, ma sono tante le polemiche che hanno accompagnato il vostro sbarco in Italia. Tante le proteste anche dei taxi, le azioni legali. A che punto è adesso la situazione qui? Oggi Uber in Italia è presente in tre città, Milano, Roma e Firenze, con il nostro prodotto premium che si chiama Uber Black. Con Uber Black si può richiedere una berlina o un van direttamente dal proprio smartphone, in massima rapidità, efficienza, sicurezza e con pagamenti elettronici. Ovviamente nel mondo Uber riesce a offrire, nelle altre 450 città circa in cui siamo presenti, anche tanti altri servizi, anche più economici, che stanno davvero rivoluzionando il settore della mobilità. Basti pensare a Uber Pool, il sistema di carpooling urbano che consente davvero di ridurre il traffico e l'inquinamento. Ci auguriamo di poterlo portare in futuro anche in Italia, sperando in un ammodernamento delle regole del settore. Senta, però i tassisti hanno risposto in qualche modo al mercato con iniziative nuove, anche con diverse app. Quindi non temete una sorta di concorrenza di ritorno? Ma no, anzi la concorrenza ben venga. Io credo che la concorrenza non sia mai da temere, anzi da sostenere. Proprio la concorrenza che aiuta l'innovazione, che spinge sempre più a portare benefici sia a chi di nuovi servizi usufruisce come consumatore, ma anche a chi i nuovi servizi può offrirli e quindi nel nostro caso appunto i driver. Grazie.